Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Lego Marvel Avengers per un nuovissimo episodio Ok ragazzi eccoci tornati su questo titolo, nell'ultimo episodio abbiamo sconfitto definitivamente i Kitauri Adesso direi di iniziare un nuovo episodio, vediamo che cosa succederà oggi Perfetto ragazzi eccoci qua, Iron Man sta portando il missile verso la base dei Kitauri Grandissimo Iron Man Perfetto, esplosione Ok si sono spenti tutti quanti Andiamo Stark Speriamo che ce la faccia Chiudilo Dai 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 Ok distruggilo definitivamente Dai che sta arrivando Sta arrivando Ce l'ha fatta signori, ce l'ha fatta Prendetelo però ragazzi, prendetelo Dai dai dai, oh grande Hulk Grandissimo Ok è mezzo KO Respira Iron Man Prova ad aggiustarlo Gli diamo una scossettina ragazzi Oh Dio che roba brutta ragazzi Che roba brutta Ha fatto un incubo Perfetto Cosa è successo Ah non lo so Ditemi che nessuno mi ha baciato Spettacolo Ottimo lavoro ragazzi Non abbiamo ancora finito E' vero c'è ancora Loki ragazzi E' ancora lì che sogna gli Hulk Perfetto Ciao Loki Dalla stazione segnalano Quello che viene descritto come un attacco extraterrestre E straordinari atti di eroismo degli Avengers Sono diventati motivo di conforto e festeggiamento Fantastico Sapere che ci sono loro Che qualcuno Possa avviare su di noi Ti amo Thor E loro erano piu piu e poi La ventosa E poi un grosso tizio verde Mi sento sicuro sapendo che ci sono loro Io Io vorrei soltanto Attenzione alla macchina E altrettanto improvvisa sparizione Perfetto E si riparte Per una nuova avventura Attenzione alla Attenzione al martello Povera auto di Stark Ok Hulk si è arrabbiato di nuovo Chi è stato Va bene ragazzi Abbiamo terminato Probabilmente Lego Marvel Avenger No non è possibile Dai Proviamo a schippare un attimo Secondo me abbiamo completato solamente il primo film Infatti Ok I Ketauri sono ancora qua C'è qualcuno che sta tramando le nostre spalle Chi è questo tizio? Ok C'era una cutscene finale Ah ok Eccoli qua che stanno mangiando Non rubare il cibo a Hulk Che potrebbe arrabbiarsi Oh ci ha lasciato un dolcetto Ah no ok Si riparte per una nuova avventura Perfetto Abbiamo terminato semplicemente il primo film degli Avengers Ok Quello lì era lo scettro di Loki Oi oi Attenzione Il teschio rosso L'Hidra Se scoprono il nostro lavoro qui Se sanno che serviamo l'Hidra L'Hidra Lo Shield Due lati di una moneta Ormai fuori circolazione Quello che abbiamo Vale più di qualunque cosa abbiano mai saputo Ah ok Quindi si ritorna In Val d'Aosta Diciamo E iniziamo il secondo film degli Avengers Barone Strucker Ok Perfetto abbiamo sbloccato due nuovi personaggi Andiamo a vedere che cosa possiamo fare qua Se possiamo liberarli No Questo zio qua che cosa sa fare? Allora dobbiamo liberare i due X-Men E Trovare lo scettro E poi l'altro che sembrerebbe un manufatto Ok Ah no ci serve l'altro personaggio Ok Vai Perfetto Premi cerchio per interagire con i pannelli tecnologici E' quello che ho fatto Possiamo fare qualcosa qua? No Possiamo salire qua però Allora fatemi dare un'occhiata Eccolo qua Un pannello dello shield Ok Un pannello del teschio rosso dell'Hydra Ok Perfetto Perfetto abbiamo aperto questa porta Facciamo un po' di piazza pulita così riesco a passare Buono Questo qui si spacca di computer No mi sa di no Ok Una leva da abbassare Ah ok ce l'ho fatta da solo Abbiamo sbloccato qualcosa Ok di qua non si può passare Oh aspettate aspettate Lui probabilmente fa parte dell'Hydra vediamo Premi cerchi per usare l'accesso Hydra Per violare il terminale di accesso shield Ah ok si lui fa parte dell'Hydra infatti Ok vai Ce l'abbiamo fatta ragazzi Come immaginavo Lui fa parte dell'Hydra Allora andiamo dall'altra parte Ah no ci serve sempre il tizio con i capelli Allora Ok Perfetto Seguenza Sbloccata Sbloccata Lo scettro è la chiave di tutto Abbiamo già imparato tanti Eppure è soltanto la punta Abbiamo sbloccato lo scettro Forse si Sembra che lo stiamo caricando Allora io scenderei sotto Allora io scenderei sotto Qui non possiamo fare nulla però possiamo fare qualcosa qua Perché Ho sbloccato queste due cose qua Ok una Le costruiamo anche l'altra Questa cassa mi da nervi Ecco Sbloccata Ah ok Le abbiamo costruite entrambi Allora Spostiamo Quei due ragazzi lì Ok uno È sbloccato E andiamo a sbloccare anche la ragazza Perfetto Dobbiamo poi trovare solamente il manufatto Ok Perfetto signori Allora Ok forse l'ho trovato ragazzi Era qua praticamente qua davanti Ok quindi dobbiamo sbloccare questa tecnologia Quindi tutto quello che c'era a New York L'hanno portato praticamente qua Oh io vado sul pulsante rosso Ok Mi serve lei dottore Venga 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 dottou Ok Sì ce l'abbiamo fatta Ok Ah hanno recuperato anche la creatura Ma dimmi te Perfetto Abbiamo caricato la creatura Ok Vediamo se funziona Attenzione che Sta succedendo qualcosa Perfetto ragazzi Eccoci tornati Siamo tornati all'inizio della storia Ragazzi Perfetto Se vi ricordate qua Occhio di Falco era stato ferito E qui Iron Man Aveva recuperato lo scettro Ok Perfetto Stiamo tornando Verso la base operativa Degli Avengers Da quando Strucker può potenziare l'essere umano Banner e io lo analizzeremo Prima che torni ad Asgard Va bene per te Mancano pochi giorni Alla festa d'addio Sì certo Una vittoria si onora Cosa sta facendo Capitano America Ok Eccoci qua Nella torre dei vendicatori Ex Stark Tower Perfetto Sulla cariola Fantastica E in mano alle autorità I due potenziati Wanda e Pietro Maximoff Gemelli Orfani a 10 anni Una granata nel loro palazzo Liabilità? Lui è veloce Lei è inquietante Li rivedremo ancora Di sicuro Sicuro Ok Ricomposto Se l'aveste portato da me La culla rigenerativa L'avrebbe fatto in 20 minuti Sarò fatto di plastica Sarà fatto di se stesso Barton La sua ragazza Non noterà differenze Ecco qua Altre armature Una però è danneggiata Eccola lì Guardate che laboratorio Che ha Stark Sta bene Sta bene Ha sete Va bene Sveglia Jarvis Giochiamo Abbiamo un paio di giorni Col joystick Facciamo del nostro meglio Lo scettro è alien Il gioiello sembra essere Un contenitore Per qualcosa Al suo interno Come un computer Sto provando A decifrare Un codice Vai Jarvis Ok C'è un po' di roba Da fare In questo laboratorio Quindi cerchiamo Di sbrigarci Guardate che roba Che tecnologia Fantastico Veramente fantastico Diciamo che a Stark Non manca lo spazio Che succede? Posso trasformarmi in Hulk No Non ancora Vediamo cosa dice L'acqua Solo i personaggi Ok Vediamo se Tony Può ripararlo Sì può ripararlo Anche Non vestito Da Iron Man Ok Ok Ottimo Abbiamo sbloccato qualcosa Ok Perfetto Vai Tony Intanto spacco un po' In tutto ragazzi Perché così recuperiamo Monetine Ok Ottimo Grandissimo Tony Sei una forza Della natura Scusami Devo passare Permesso Grazie Ok Vai rompi tutto Iron Man Rompi tutto Perfetto Ok Dobbiamo costruire un pannello Per aprire la porta Ok Vai Tony Sono io Sono io Sono io Fammi entrare Dai E andiamo signori Ok Guardalo Possiamo controllarlo Mi sa di sì 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 possiamo controllarlo Ok Barn Barner Fammi passare Ok Sbloccami la cassaforte Che violenza signori Vai ricostruiscimi Quella a fare lì Può farlo? No Mi serve banner Ok Diamo una pulizia Anche qua Mi sa che ci serve Qualcuno Con più poteri Qui non si può fare nulla Procediamo Oh Alla Opla Ok Qui c'è una leva Da utilizzare Ah ok Perfetto Probabilmente Per rendere le scale Lisce Così possiamo far salire Il droide Ok Spacchiamo tutti questi tavoli Da lavoro Ok Tutte casse Con della roba dentro Ok Piazza pulita Così abbiamo anche più spazio Allora Vai 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 Gira 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 Perfetto No Non è servito a quello che Pensavo Ok Vai Tony Abbiamo sbloccato la cassaforte Perfetto Cosa c'è qua dentro? Qualcosa da prendere? Ecco Quello che stavamo cercando Preso E uno L'abbiamo recuperato Adesso dobbiamo andare A recuperare l'altro Che si trova Probabilmente Dall'altra parte No Mi sa di no Qua dentro Magari In questa cassafortina Lì Vediamo Magari qua dentro Però Mi sa che dobbiamo Sbloccare qualcos'altro Mi facciamo che spaccare un po' tutto E Ah eccolo qua Depositalo qua Jarvis Eccolo qua All'inizio Jarvis era un'interfaccia utente Di linguaggio naturale Ora gestisce la Iron Legion Gestisce la più grande fetta Dell'azienda Dopo Petter Il top del top Sì Sospetto Non per molto Ok Dai che sblocchiamo qualcos'altro Ok Lì c'è un altro pannello Di controllo Perfetto Vai Tony Vai Tony Completa il puzzle Perfetto Cosa abbiamo ottenuto Eccolo qua L'altra Interfaccia Utente Bravissimo Prendi tutto E Depositiamola qua Di fianco a Jarvis La concorrenza Ok Sono molto simili però Dimmi A te cosa sembra Sta pensando Intelligenza artificiale Sono uguali Se imbrigliassimo questa energia E l'applicassimo all'Iron Legion È un sì grande quanto una casa Pace per tutti Immagina Che begli occhiali Ok Cosa caspita Stanno combinando Un pollo Così a caso Ricercherò variazioni Sull'interfaccia Grazie caro Si diverta signore Come sempre C'è Banner Che sta dormendo Con l'orsacchiotto Ok Che cos'è prego Salve Sono Jarvis Tu sei Ultron Sono programmato Per la pace Creato per Aiutare gli Avengers Hai un malfunzionamento Pace per tutti Questo è troppo Se mi permettessi Di chiamare Il signor Stark Perché lo chiami Il signore Credo che tu abbia Intenzioni ostile Eh in effetti Attento Jarvis Ai 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 Ok Mazza che festicciola Che stanno Che stanno Tenendo qua sotto Non sono un'esperta Stark Ma questa festa Mi sembra un po' Moscetta Ok Proviamo a darci un'occhiata In giro C'è uno che dorme Qua sul divano Scusi eh Scusi se la disturbo Però Sa devo soltanto Rompere un po' di cose Qua in giro per la casa Se può levarsi Grazie Uh avevo tante monetine Qua da recuperare Perfetto Un po' di pagnotte Così Ok Non vi preoccupate La festa Ve la movimento io Rompendo cose a caso Cos'è che ho creato qua Cos'è che ho creato Cos'è sta roba Ah vediamo subito Sono proprio curioso Vediamo cosa Tirato su Tony Stark Vediamo Ciao Tipo sulla poltrona Uh un pianoforte Fantastico No 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 Questo Non è fatto Per uomini mortali Vai Thor Tocca a te Caricati un attimo Abbiamo dato la scossa a tutti Ok Ottimo Quella Guardatelo come balla Tori il ballerino Ok no Qua si Si può salvare Annulliamo tutto Scusate ho sbagliato Cosa Uh ma allora uso lei Alla pistola Scusatemi Così faccio prima Perfetto Grandissimo Scusate eh Sto solo sparando per Chi è? Falcon Falcon Probabilmente Ok Abbiamo sbloccato Guardate quante monetine Un mare di monetine Ok Vediamo se Possiamo mandare Tony Si Possiamo mandare anche Tony Allora Dobbiamo sbloccare qualcosa Anche qua Vediamo che cos'è Allora Uno è qua Due Tre E quattro Perfetto Cosa c'è qua dentro? Falcon Tocca a te Dove sei? Occhio di falco Oh Fatemi passare Gente Dov'è occhio di falco? Dov'è occhio di falco Quando serve? Eeeh Boh Proviamo lei Vabbè che Gente che arriva così a caso Solo i personaggi Eh mi serve Iron Man però Ok ragazzi forse ho trovato Perché con Iron Man Si può fare così Quindi scegliere l'armatura Prendiamo la Mach 43 Perfetto Guardate che arriva Non sapevo si potesse fare questa cosa E invece si può fare tranquillamente Ok Adesso abbiamo l'armatura Quindi possiamo rompere queste cose qua Forse abbiamo trovato il bigliardo Non la sapevo questa cosa Infatti sono andato avanti per un quarto d'ora A cercare di capire come proseguire Perfetto Tavolo da bigliardo sbloccato Attenzione che c'è un piccolo glitch Falcon che è rimasto bloccato Ok E anche il tavolo è a posto Ok Posso volare in casa? Si eh Posso volare tranquillamente in casa Ok Guardate che casino Che spettacolo Posso volare in mezzo all'abitazione Ok Scendiamo Perfetto Oh si è glitchato Falcon Aspettate che sposto Capitano America va Ok Si è sbloccato Quindi Capitano America adesso non è più disponibile Abbiamo solo Iron Man Torna qui Torna qui E La tipa Allora dobbiamo trovare il frullato Ragazzi appena lo trovo ve lo mostro Ok ragazzi forse ho capito Vedete quella figura lì? Mi sa che dobbiamo Dobbiamo tipo Eccolo Lo immaginavo Dobbiamo tipo Ritagliarla Con il laser Naturalmente Perfetto Un po' complicato come pezzo Non è così tanto intuitivo Uoi 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 Che caspita sta cadendo qua Ok Sono caduti un bordello di pezzi Dobbiamo costruire qualcosa Probabilmente qualcosa per produrre frullati Oh si signori Perfetto L'unica cosa che non mi è piaciuta È che questo pezzo qua non è tanto intuitivo Perfetto Siamo comunque riusciti a risolverlo Frullati per tutti signori Frullati per tutti Perfetto Ok Tre obiettivi completati Vediamo cosa succederà ora Ok la festa è terminata Sono lì che stanno discutendo su come alzare il martello Senti il giudizio alleggiare? Prego Stark è tutto tuo Vai Tony Sei nella mia squadra? Datti da fare Tira Va bene No 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 Niente da fare ragazzi Ai 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 Per un pelo per un pelo Niente Mamma mia Una scritta sul manico? Un codice di sicurezza? È una teoria molto interessante Ne ho una più semplice Tac Nessuno di voi è degno Voilà Attenzione che caspita sta succedendo Sta arrivando qualcuno Scusate Ok finalmente un po' D'azione Guarda lì Quei due lì Che trisca ragazzi Ok c'è da combattere finalmente Mi dispiace Ok vieni qua Vieni qua Ok una è andata Due E voilà Ok Dai che le facciamo fuori Perfetto Perfetto Ottimo lavoro Vediamo cosa dice la Poteri telecinetici Possono sollevare gli oggetti Lego luminosi Va bene Andiamo da questa parte Dobbiamo scendere Attenzione Oh gli abbiamo dato fuoco Ok Abbiamo un'opportunità Vai occhio di falco Allora dobbiamo aiutare gli altri Dobbiamo aiutare gli altri Ok Perfetto Datemi un po' di cuori Ultron non posso attaccarlo direttamente Allora fammi un favore Non vedo niente Allora dobbiamo fare piazza pulita qua Perché dobbiamo sciogliere quel Quello metallo là Ok Scusate però l'inquadratura è quello che è Perfetto Ce l'abbiamo fatta? Ok Aspettate Ok Perfetto Ok Cosa abbiamo sbloccato? Probabilmente qualcosa Vediamo cosa dice Ah la solita spiegazione del raggio termico Non sei mai sentito a nientà Ok forse ho trovato qualcosa ragazzi Forse ho trovato qualcosa Dobbiamo distruggere tutta questa zona Perché ci sono degli oggetti nascosti Ok Ho trovato questa cosa qua da costruire Però mi sa che ci mancano dei pezzi Ok vediamo cosa dice l'acqua Sto inviando i dati Dovresti averle sullo schermo Ah frecce soniche Ok dobbiamo distruggere i vetri Con le frecce soniche Mi ero dimenticato che occhio di falco aveva anche queste cose qua a disposizione Ok vai Perfetto Ok Costruito Sì ottimo Ok Adesso possiamo lanciare lo scudo Di capitano America Vai 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 Lancialo 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 Ok Perfetto Possiamo controllare pure lui Vai Addio armatura Ma caspita ancora Ok mancano Thor e Tony Da aiutare Intanto do sempre una pulizia anche qua Magari trovo qualcosa di interessante Forse sì O forse no Intanto continuo a distruggere armature Due cuori che prendo molto volentieri Ho arrivato Tony Ok ci sono due cose da far esplodere lì Perfetto Cap qua è a posto Più o meno Questo si può rompere no Allora scendiamo Da qua Spegnimi questo incendio No Ah ce ne sono troppe Ce ne sono troppe Vai Ok Ottimo lavoro Vai Spegnimi anche questo Grande E ne manca uno Ok Ragazzi ho bisogno del vostro aiuto però Allora costruiamo Allora costruiamo Una scalinata Ok Ottimo Perfetto armatura distrutta Saliamo su Possiamo fare il giro No Non possiamo fare il giro Però posso fare così Vai Cap Vai Ok Ottimo lavoro Abbiamo sbloccato qualcosa Che cos'è Ok E' qualcosa da costruire Forse Si Vediamo che cos'è Avevo anche un'altra opzione Ah Ah è un trampolino E' occhio di falco Mi puoi Sparare una Freccettina qua Grazie Senza magari farti colpire Che battaglia ragazzi Basta Ok freccia mandata Eeeh 3A addirittura Perfetto Dai che li facciamo esplodere Ok Ottimo lavoro Questa è sta cosa Che stiamo costruendo Boh altra roba Vai occhio di falco In realtà volevo Che utilizzassi il pannello Vai Ok Uh l'armatura di Iron Man Perfetto Vai Tony Prenditi l'armatura Ok Manca solamente Thor Manca solamente Thor Aspetta Ti serve aiuto No Ultron Non riesco a eliminarlo Dov'è Thor? Sta arrivando? Si è arrivato Attenzione E' assediato ragazzi E' veramente assediato Vai Vai Dai Ok Li abbiamo aiutati Tutti quanti Perfetto Ok Qui continuiamo a colpire Ste caspita di Attenzione Alla dottoressa Via dalle scatole Molto teatrale Volete proteggere il mondo Ma non volete che cambi Come può l'umanità salvarsi Se non ne viene permesso Di evolversi Con questi Boratini Esiste una sola strada Per la pace L'estinzione degli Avengers Adios Ok Eppur Non cado Giù Attenzione E' ha riattivato Il laboratorio segreto Ai 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 ragazzi Un nuovo nemico All'orizzonte Perfetto Non cado Giù Abbiamo sbloccato Un nuovo trofeo Livello completato Mamma mia Che livello ragazzi Ci sono stati momenti In cui non sapevo Veramente che cosa dovevo fare Comunque alla fine Siamo riusciti a risolverlo La barra Mi sa che non siamo riusciti A completarla Vediamo Vediamo No 84% Perfetto Schippiamo tutto Ok Va bene ragazzi Direi che possiamo Concludere questo episodio Qua Non so veramente Quanto è durato Ma è durato tantissimo Come sempre ragazzi Se questo video vi è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate Condividete Iscrivetevi Al canale E ci vediamo In un prossimo Episodio Sempre qui Sul Lego Marvel Avengers Alla prossima Ragazzi E ci vediamo E ci vediamo